Bene, ringraziamo il Presidente Anelli. Adesso, visto che il collegamento con il Ministro Speranza è previsto in orario imprecisato, chiederei a Maria Garzia Petronio di subentrare per la prima sessione, quindi la inviterà al tavolo della Presidenza per la prima sessione dei lavori. Allora, buongiorno a tutti. Diamo inizio a questa sessione sulla transizione ecologica e energetica, purtroppo in una situazione internazionale che sicuramente non è favorevole a questo cambiamento, anzi, possiamo diciamolo, una situazione abbastanza drammatica in cui abbiamo ormai la guerra che è diventata quotidianità e tutto questo si inserisce in un contesto climatico molto, molto critico, come diceva prima anche Martuzzi. Gli effetti di questo cambiamento stanno andando oltre le più pessimistiche previsioni e invece in questo momento avremmo avuto bisogno proprio che tutti i paesi si unissero in un impegno pacifico e efficace proprio per effettuare questa transizione. Diciamo la verità, nessun paese è autosufficiente, neanche quelli che hanno le materie prime perché magari non hanno le raffinerie, quindi c'era proprio bisogno di mettere insieme tutte le energie, è il caso di dirlo, per favorire questa transizione. Quello che si è verificato tra il 14 e il 20 marzo di quest'anno è un evento che è stato definito inimmaginabile dai colleghi meteorologi e un evento che ha ridefinito la storia della climatologia nel continente facendo appunto sobbalzare non solo i colleghi meteorologi ma tutte le persone in grado un minimo di capire quello che sta succedendo. I due eventi in particolare sono quello che si è verificato in Antartide, Dome Concordia, in questa base a 3.234 metri di altezza in cui si è registrato un valore di temperatura di 40 gradi centigradi al di sopra delle medie del periodo, il valore più alto mai registrato dall'inizio delle rilevazioni e nel polo nord si sono registrate temperature di 20 gradi centigradi al di sopra anche qui delle medie del periodo con una fusione alle isole Svalbard di 100.000 chilometri quadrati di ghiaccio in una settimana. Tutto questo nella più generale distrazione perché i politici sono impegnati a giocare alla guerra. Continua quindi lo scioglimento dei ghiacciai che sono la nostra riserva di acqua dolce, continuano ad alzarsi i livelli dei mari, le concentrazioni di gas serra ad aumentare con l'acidificazione degli oceani e dal 2010 ogni anno raddoppia il numero di regioni in cui si presentano eventi estremi gravi. La regione europea dell'OMS è tra le più colpite dalle ondate di calore con una stima di 108.000 decessi nel 2019 attribuibile appunto a queste ondate di calore. Ma poi ci sono tutti gli altri effetti collaterali. Queste temperature record hanno portato al massimo di 3 miliardi di giorni persona in più nel 2020 di esposizione alle ondate di calore tra le persone over 65 e 626 milioni di giorni persona in più per i bambini inferiori a un anno. Sono i dati del Lancet Countdown del 2021. Quindi con un onere di mortalità che possiamo anche quantificare con molte conseguenze dalla perdita di ore di lavoro alla perdita di attività fisica che come sappiamo è un fattore importante per la prevenzione primaria di molte malattie e quindi penso appunto che sia molto difficile poi fare una stima dei danni diretti ma anche di quelli indiretti di queste ondate di calore rispetto a quella che diceva prima appunto Marco. E soprattutto ovviamente l'uso continuato dei combustibili fossili che determina la maggior emissione di gas serra oltre a determinare l'inquinamento atmosferico e un recente studio europeo condotto dall'EFA, European Public Health Alliance ha proprio cercato di stimare qual è il danno causato dall'uso domestico dei combustibili fossili e del legno. Questo studio a cui ha partecipato anche ISDE rileva solo il danno legato all'inquinamento dell'aria indoor quindi riscaldamento e cottura di cibi quindi stufe, caldaie, petrolio, gas, combustibili solidi come carbone o biomassa tutto ciò costa ad ogni famiglia italiana a proposito di costi Paolo 180 euro all'anno di spese sanitarie nell'Unione Europea 27 con il Regno Unito i costi sono ammontati a 29 miliardi di euro cioè lo 0,2% del PIL totale la maggior parte dei costi si riferisce alle emissioni dirette dentro l'abitazione e questo a noi è noto questo problema dell'inquinamento indoor per queste fonti pensiamo solo che i bambini che vivono in casa con una stufa a gas hanno un 42% in più di possibilità di avere l'asma mentre non ci sono emissioni dirette per esempio quando si utilizzano le pompe di calore il riscaldamento solare e termico le stufa a induzione per cucinare è chiaro che poi questi combustibili contribuiscono oltre all'inquinamento indoor anche a quell'outdoor un altro studio condotto ad Atene pubblicato nel 2021 ha dimostrato che il fumo di legno è anche un potente cancerogeno per noi magari era noto in questi studi si evidenzia che la frazione di IPA idrocarburi e policiclici aromatici associata a combustione di biomassa rappresenta quasi la metà del potenziale cancerogeno annuo degli idrocarburi quindi il livello di IPA da Atene questo studio risulta essere dello stesso ordine di grandezza di quello riscontrato in altri studi in altre città europee o nordamericane con una concentrazione medioannua inferiore ai limiti dell'Unione Europea ma superiore ai livelli dell'OMS e gli IPA non sono l'unico cancerogeno nel fumo di legna che notoriamente contiene anche altri composti capaci di causare stress ossidativo e quindi portare a quelle patologie come infarti, ictus, obesità, invecchiamento precoce, diabete tutto ciò che ha a che fare con processi infiammatori cronici dunque il passaggio alle fonti rinnovabili per il riscaldamento degli edifici, la cottura e il passaggio alle auto elettriche ridurrebbe sicuramente l'esposizione a IPA, altre inquinanti e quindi il rischio di cancro e altre malattie croniche. Oltre a questi problemi diretti di salute c'è anche il problema di tutela degli ecosistemi che contribuiscono per due terzi alla produzione primaria quindi cibo ma anche altri servizi che ci fa la natura e secondo un report pubblicato nel 2020 dalla Comunità Europea l'uso delle biomasse per la produzione di energia in Europa ne parlerà forse dopo Gianni Tamino ma insomma ecco si dice che le energie rinnovabili in Europa provengono in gran parte dalle biomasse forestali più della metà e la cosa più importante da segnalare di questo rapporto è che si sottolinea come non sia nota la provenienza del 20% di questo legno utilizzato e questo è un grosso problema. Secondo i colleghi di Ispra se si incentivano, se si continuano ad incentivare gli operatori economici assisteremo a un uso sempre più intensivo delle foreste e quindi c'è il rischio che non si raggiungano gli obiettivi climatici proprio per un eccesso di taglio delle foreste. e sempre il collega Giacomo Grassi di Ispra si chiedeva appunto se la soluzione non debba essere quella di smettere di considerare le biomasse come fonti rinnovabili di smettere di considerare la bienergia come carbonneutrale e di restringere l'uso delle biomasse ai soli residui a situazioni particolari e a far sì che ogni paese incomincia a considerare anche gli svantaggi e le conseguenze. Quindi per concludere direi che abbiamo alcuni punti fermi da cui partire poi nelle relazioni di questa sessione sentirete le proposte, quindi la parte costruence abbiamo la sinergia tra ondate di calore e contestuali elevate concentrazioni di inquinamento atmosferico che sicuramente determinano effetti sanitari sempre più gravi. La mitigazione del cambiamento climatico quindi ridurrebbe anche l'inquinamento atmosferico per cui non ci sono dubbi che nella scelta delle azioni da implementare bisogna dare priorità a quelle che riducono l'inquinamento atmosferico e rappresentano quindi un co-beneficio aggiuntivo per la salute per tutti. Le combustioni in generale producono inquinanti tossici questo si verifica sia a fuochi controllati quindi a partire dai nostri caminetti dagli fuochi appiccati in agricoltura ai grossi incendi forestali conseguenza del cambiamento climatico e quindi è necessario considerare questi aspetti anche nel trattamento dei rifiuti e di questo si parlerà appunto nella prima relazione della sessione. Altro punto fermo le foreste, i boschi, il verde urbano hanno un ruolo di primaria importanza in questa transizione per ridurre l'inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico quindi occorre bloccare la deforestazione e aumentare le aree naturali protette e quelle verdi in città. Infine promuovere cambiamenti comportamentali benefici per la salute e al contempo protettivi dell'ambiente ma questi comportamenti vanno sostenuti, non vanno addebitati al singolo cittadino che pure ha un ruolo importante, ma vanno sostenuti attivamente con politiche urbanistiche e campagne informative. L'indicazione importantissima che ci viene dalla stessa Agenzia Energetica Internazionale è che si limitano loro a considerare solo il settore della mobilità. Nelle economie avanzate che rappresentano il 45% della domanda mondiale di petrolio si potrebbe ridurre la domanda di petrolio di 2,7 milioni di barili al giorno nei prossimi 4 mesi. Quindi in un tempo molto rapido con delle azioni che loro riportano tipo le domeniche senza auto, lavorare da casa fino a tre giorni, rendere più economico, quasi gratuito il trasporto pubblico, ridurre i limiti di velocità sull'autostrada di soli 10 km, aumentare il car sharing e favorire la guida efficiente per i camion merci, utilizzare il treno invece dell'aereo, accesso alternato alle città, targhe alterne, rafforzare, poi questa è l'unica azione tecnologica, l'adozione di vericoli elettrici più efficienti. Quindi solo con queste azioni e solo nel settore della mobilità e in quattro mesi potremmo avere l'equivalente di una qualsiasi centrale a carbone o altro combustibile. Ma noi sappiamo benissimo che si può aggiungere anche il tema della dieta, il tema dei regolamenti edilizi, della riduzione degli sprechi anche in sanità. Quindi abbiamo davvero un ventaglio di azioni da suggerire ma da assumere immediatamente. E quindi dobbiamo capire come se da questo congresso, insomma poi noi abbiamo anche costituito come gran parte di voi sanno un gruppo che si occupa in maniera specifica di questo, Minds for One Health, un gruppo di professionisti che a vario titolo si occupano di ambiente e salute, ingegneri, fisici, chimici, biologi, meteorologi, ecco in questo gruppo stiamo cercando di affrontare questo tema in maniera specifica. Abbiamo incontrato delle persone meravigliose, una di queste è Paolo Pileri del Politecnico di Milano che oggi appunto ci parlerà del suolo. Niente, concludo dicendo che questa strategia dei co-benefici di cui abbiamo un'estrema consapevolezza noi e che sarebbe efficace sicuramente per ridurre, per fare la prevenzione primaria e congiuntamente ridurre la crisi del clima, non è stata considerata molto a Glasgow nella COP26 ed è poco rappresentata anche nel PNRR come molti di noi hanno già scritto. è citato il tema dei co-benefici ma non c'è nessun obiettivo in cui poi si faccia effettivamente una verifica dell'impatto sulla salute o in cui si definisca un obiettivo di salute. Io mi fermo qui e invito, non so volete venire uno alla volta, i colleghi che dovranno intervenire in questa sessione che sono Gianni Tamino, già docente di Biologia all'Università di Padova che ci parlerà di una corretta gestione dei rifiuti, economia circolare e fonti veramente rinnovabili. Grazie. Grazie. Grazie.